Amici di MarciGames, bentornati su Golf! Oggi il nostro amico ilburlonef.p. Che però su Instagram non ha la fanpage, ha una fanpage su YouTube, grazie ilburlonefanpage. Ci dice, Golf ma non puoi toccare il colore bianco, devi utilizzare una mappa a base innevata o ghiacciata. Questa era l'ultimissimo uscito, ho detto, beh, chi siamo noi per non cedere questa mappa? Cosa importantissima ragazzi, preparatevi nico e loco. Allora, solo i bordi sono bianchi, quindi alla fine è tutta questa di non toccare i bordi o di stare comunque attenti al resto. Se toccate il bordo, che vedete che è tipo nerino, è considerato bianco perché facciamo come se fosse il cornicione. E invece i cerchi? I cerchi sono bianchi pure. Sono neri? Non sono bianchi, dai. La cosa particolare, che è l'unica cosa bianca che potrete colpire, è chiaramente la buca, perché se non colpite la buca è niente. Poi mi hanno detto di dirvi, mannaggia te loco, che ci sono le collisioni e se qualcuno ti tocca vale. Oh, interessante. Grazie loco, hai già iniziato male. Ma se tu che mi hai toccato, io non ho toccato. Ma cosa stai dicendo? Mi hai sposto a te. Dico no, no. Osservami, osservami bene. Ti giuro. Non ho toccato nulla. Peraltro, una cosa importantissima, se toccate me dovete rinunciare perché sono bianco. Ciao, loco non ha rinunciato, attenzione. Io sono bianco e anche Nico ha le striature bianche, quindi loco dovresti rinunciare. Ma cos'è stata? Ma te la lascio buona solo perché è la prima volta, chiaramente. Non vi conviene beccarmi, raga, ve lo dico io. Mi sembra una cosa un po' imparziale questa, comunque. Anch'io ce l'ho visto bianco. Raga, ma voi sapete che da quando c'ho sta pallina qua, da una vita, da una vita. Non è vero. Faccevi il mondo, te. Perché mi stai puntando? Volevo beccarmi. Loco, loco deve rinunciare. Tu hai toccato me, no, no, no. Loco deve rinunciare, loco deve rinunciare, loco deve rinunciare, loco. Ma cosa vuol dire? È vero, anche loco c'è le strisce bianche. Vabbè, facciamo anche questa regola non vale più, ok? Adesso dico rinuncia. Ma cosa vuol dire? No, per far condizioni che rinuncia. Ma non pensarci neanche. Vincimi contro... Marci, sei un pirla. Vincimi contro un muro, loco, dai. No, no, vado a sto bene così, dai. Oddio. Dai, ma dai, non vale. Vabbè, Marci t'ha spinto, mi sa. Eeeh. Ecco, si impari. Raga, rinunciamo tutti. Sì, uuuuh. Facciamo una nuova regola, non si può beccare l'avversario, bene. Così siamo tornati tutti a pari. Io sono ultimo, in realtà. No, mi conto avanti. Fa niente, ma lui è stato quello più corretto di noi, quindi... Chi sta. Oh mio Dio. Quindi chi possiamo toccare ora, no? Non possiamo... Si possiamo toccare. Only one. Non... Ma ha fatto a farlo in one, quello? No, lo so, ha avuto cubo. Comunque lui ha toccato il bianco in tutto ciò, eh. Ma dove? L'ho toccato? Eh, sì, ha toccato il bianco. Dove l'ho toccato? Tu hai toccato il bianco? Io lo so che tu hai toccato il bianco. Io lo so che tu hai fatto qualcosa che non andava a farlo. Io ti ho visto, loco, ti ho visto. E l'hanno visto anche le persone che hanno lasciato mi piace a questo video. Eh, qui lo tocchiamo sicuro, ragazzi. Ma santo c'è. No, no, quello è viola, è rosa, non è bianco. Neanche il grigio. Bisogna per forza farlo in one, ragazzi. E le rosa si può toccare. Non l'ho fatto. Però non ho toccato niente. Eh, mamma... Ho fatto centro diretto! E qua non potete, ragazzi, bisogna rinunciare, ragazzi. Eh, sì, eh. Eh, bisogna rinunciare, ragazzi. È tutto bianco, ragazzi. È tutto bianco, ragazzi. Ho fatto centro diretto, non ci credo. E la ribaltiamo così. Eh, che ci fa? E qua non si fa. Eh, qua si fa il... Esatto. Questa è tosta. Attenta, saltino. Ma io, porca miseria. Ma ho dei problemi, comunque, raga, secondo me. Vabbè, quello è caduto nell'acqua. L'acqua non è bianca. È beccato... È appena beccato un riflesso, comunque. Ma diamo... No, il riflesso è bianco, se lo guardi, eh. Non so se sono soggettivi, però. Vediamo se lo becca... Non l'ha beccato. Prima l'ha beccato un riflesso, comunque te lo dico, Nico. Ma dov'è che è, allora? Io da che faccio rinual, guarda. Bam! Oh mio Dio, quasi lo facevo. Rinuncia alla buca. È giusto rinunciare, raga. È quel che dice... Perché hai rinunciato, loco? Ho toccato il muro! Ah, ok, no. Non per il riflesso, scherzavo per il riflesso io. E qui il portale non possiamo prendere il bianco. Ragazzi, sapete che secondo me sarà quello bianco? Non c'è scritto dov'è, eh? Non lo so. Io prendo quello viola. Io l'azzurro. Vabbè, ci ho provato a prenderlo azzurro. Viola, acqua. Niente, Marci, niente. Raga, mi sa che è quello bianco. Però quello bianco è più grigio, secondo me, eh? Io non riesco a prenderlo azzurro. Preso. Come hai fatto a prenderlo? È... Oli uomo, ma becchi il bianco. Cioè, becchi per forza il bianco. Quindi ve la... Ve la approvo. Cioè, se beccate l'azzurro ve la approvo. Grazie, grazie. Oh, non ce la faccio! Bugii! È lì per foro, raga. Lì è il gioco che ti butta sul bianco, quindi ci sta. Vedi? Ti fa beccare lì e qui. Comprendo. Vabbè, qua diciamo che va bene. Spero che il burlone fanpage non se la prenda, per favore. No, perché se no qua... Poi c***o un po' tutti, eh, nel senso. Non mi sembra il caso. Ah, vabbè, io poi mi altero poi. Ok, qua... Oh, porca miseria. È facile qua. Beh, curvettina, easy. È facile, fai only one. No, tocca il muro. Only one! Non l'hai fatto, l'ho toccato il muro. Ah, no, all'incio, ho sbagliato. Poi, è esattamente qua. Un altro colpo. Non ti sa i colpi massimi, scusa. Dieci. Ah, beh, ok. Ora, dopo tutta sta cosa tocca il muro. E invece no. Meglio sette che quindici! Ma dico ancora primo. Va bene, va bene così che è primo, va bene. E qua dov'è? Dov'è la buca? No, vabbè, raga. Ma la luce è bianca. Uh, è qua, raga. Allora, qui, raga, se vogliamo che il bianco valga, solo quello di destra, che ti porta direttamente... Allora, se ti parte direttamente in buca, va bene. Ma in realtà, secondo me possiamo evitarlo direttamente, la luce, eh. Dici? Ah, sì, si può evitare. Eh sì, si può evitare, certo. Oddio, ma è difficilissimo. E basta che non passi al centro. Eh, ma se io passo sopra la luce, ma la volte passo... No, non puoi. Ecco, chi è bianco. È bianco. Madonna, quanto è diffic... No, non si ferma più. Non si ferma più. Dico, l'hai toccato? No. Non passa da lato. Devi passare proprio di lato... Non so se sei passato come stia passando noi, Nico. Come più o meno dove lo ho? No, non è vero, lo corro al centro. Dove sei tu ora? Sono passato. Ho finito il visuale libero per guardarti. Ok, io spero che vada bene questo. La luce... No, no, non lo so dove è la luce. Eh... Ok, l'ho balzata. Ho toccato il muro. Devo rinunciare! Ho rinunciato. Ho rinunciato. Ho rinunciato. Ho rinunciato. Dei calcoli. La luce è... Vai avanti tu. Vai avanti, ora mi stai confondendo. No, Nico, non hai capito. Prendi per forza il muro. No, no, no. Questo l'ha preso sicuro il muro. No, è arrivato. Eh, sì. Prendi per forza il muro, Nico, mi sa. Ce l'ha fatta. Che curva! Raga, negli ultimi video si vede che Nico gli è tornato alla passione di golf. No. Un ragazzo l'ha scritto nei commenti. Dopo 30 anni finalmente una vittoria di Nico. Io volevo... Ma è vero, vincò spesso ultima. Ma aspetta, aspetta, aspetta. Ti trovo anche il commento. Così lo salutiamo perché è giusto salutare anche i fan che commentano. Ma non è vero. Eccolo qua. Dopo 30 anni Nico ha vinto. Salutiamo Lorenzo Cortinovis 1395. Ciao. Bene, Lorenzo. La prendo sul personale. Bene, qui? Ok. Se è portato del Nether, è meglio non prenderlo. Ma cosa te lo fa pensare che non bisogna prenderlo, scusi? Perché se lo prendiamo, tocciamo il bianco. Buca! In cinque. Come in cinque? Non lo so, ho avuto qualche problema, mi sa. Lo ho fatto in uno io. Ma perché ho avuto paura io? Vabbè... Provaci! Quattro. Va bene quattro. Va bene quattro. Ma perché il portale nel Nether, no? Loco, l'hai provato? Perché tipo... No, ti portavo sul bianco. Ma come ha fatto a farlo in un volso qua? L'ho visto in visore libera! Io qua vado nel chilling. Come fai da nel chilling? Eh, vado dritto. Non proprio così. E ora toccherò il muro, vero? Ho l'in due. Hai toccato il muro? Fermati, però sì! Sì, oh! Bravo, Loco! Grazie! Loco, bravo! Loco sta migliorando su golf, raga. Loco sta letteralmente migliorando. Anche nella vita sta migliorando un pochettino. Ogni tanto. No, l'ho detto tanto per... Come tanto per? Qua bisogna fare la stessa buca di prima, bisogna andare un po' più forte. No, qui tocca il 100%. Non male che non c'è il fondo. Come fai a non toccare? Io andavo in mezzo per forza. È vero, dietro si può andare, ok? Per fortuna. Così. E invece no. No. Frena, 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 frena. Frena, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, raga. E il problema è che... Eh no, qua tocchi per forza. Come facciamo? Che regola abbiamo qua? Io non ho toccato niente, raga. E anche io. Io non ho fatto un identico. Porca, buono. Come faccio? Ma è... È... Deve averla... No, un problema. Mi sa di no. Ho provato, zio. Dove andare tipo pienissimo. Il burrone fanpage. Tu devi essere dalla mia parte, non dalla loro. Non ti dovi venire da loro. Eeeh, so passo! Perché mi sono? E' una mina lì? Andila. Ma che è quella roba, raga? E' una mina, ti fa imbalzare in buca. E' fisicamente impossibile sta cosa. Marcidu! Non ci siamo toccati. Ferma! Io non ho toccato, tu neanche. Io ho un centimetro. Neanche io ho toccato. Come facciano qua, scusate? Vai su. Qua si tocca per forza. No, mi sa che conviene andare nella mina con il ciannico. No, no. Io da qua sto un dritto, sinceramente. Ha toccato. Mico ha toccato. Sbren ha toccato. Ha toccato. Io provo ad andare nella mina, allora. No, non ti conviene. Ah, intanto sto giocando adesso in squadro. Ho visto il giorno della pia. Oh, ha funzionato? Eh, è in pieno sul bianco, dai. 100, 2, 100, 5, 112, raga. Oh, questa mappa è la peggiore, comunque. Ma come fai, scusa? Ma perché qualcuno vede i muri bianchi, ma non sono molto bianchi. Senti, non c'era una mappa con la neve di 100, ok? Ecco, già lo ha proprio toccato tutto quello che aveva toccato. Io me la faccio nel chill. Ecco, bravo. Però da qui come faccio? Sbagliate anche voi. Ah, mamma mia. Che dico l'ho fatto. La precision. E no. Colpaccio questa. È toccato? No. Riesco a fare un colpo in più e arriva al secondo, guarda. Ok, un po' più buggy, 5. Siamo tutti lì, eh. 105, 117, 120. Dai, siamo tutti tutti lì. Sì, è un po' più. È una buza. Sì, vabbè, qui. Devi far centro. Va bene. Ok, 2 no. Neanche questo. Però non ho toccato il bianco, ho rimbalzato l'azzurro. Mi fido di te. Se lo dici, mi fido. Io purtroppo ho toccato. Uno è un po' loco. Eh, lo so. Ah, l'hai fatto? Uno e due, sì. Ma io ho fatto uno e due prima. No, no, non è andato. Eh, no, no. Quello è bianco. Rinuncia. Eh, brutta situazione. Qua Nico mi sa. Ci giochiamo al secondo posto. Sì, ci giochiamo al secondo posto. Nico. O le sbaglia tutte. Magari anche no. Eh, questa raga è impossibile. Bisogna rimbalzare e andare sotto. No, Marci la tattica. Lo vedi che Marci la tattica? È impossibile. È concentrato, Marci. Lo senti? Sono sul stesso piano. Come pensi di fare, Marci? In questo modo. Sai che come fa? Bravo, Sbrenno. Ma io l'ho visto toccare. No, non l'ha toccato. Non si può andare però sulla piattaforma. Però è sbagliato, Sbrenno. Dobbiamo andare di qua. È impossibile proprio. Allora, come facciamo? No! No, non si può. Non c'è la buca. Eh, non si poteva fare questa. Questa non si poteva proprio fare. E ora... E ora si. E ora Nico ha vinto. Nico ha vinto. Potete fare one in one. E quello dove ti porta? Portalino giallo bisogna prendere. Ma mamma mia sotto è pieno di bianco. Se non prendete il giallo è finita. Non l'ho preso di pochissimo. Ma perché sono... Ho preso il giallo. Cioè il bianco. Tu l'hai fatto il giallo? Sì. Di pochissimo. Eh, ma si rimbalza in buca. È come prima, raga. Sì, ma è come prima. Hai toccato tutto il bianco. Se hai rimbalzato e Nico mi conferma che hai rimbalzato, io mi fido di lui. È proprio fatta apposta la mappa. Rimbalzi su quei cosi lì. Ma ci non l'ho toccato. Tu sì? Ma era l'all in one. Pirra, è il portale giallo che fa tutto. Vabbè, se vuoi contami 30. No, no, no. No, no, no. Perché 30? Non hai toccato niente? No, no. Io ho toccato sotto. Primo ho toccato sotto. Ma io sono sincero, raga. Ho toccato sotto. Eh, così. Beh, tanto di cui ha vinto. Ma che poi una volta puoi dire, oh, Nico, hai meritato di vincere. Eh, ha meritato. Ci è stato bravo. Ma come hai fatto ad andarli su? Ma che cosa c'è? Non lo so, completamente a caso. Però ho fatto un uomo di nuovo. Ma lì sopra c'era qua. Ma io non l'avevo visto che lì sopra c'era qua. Poi c'erano quattro frecce. Non l'avevo visto. Ah, non c'è? Non dovete sannare voi? Sotto sotto. Faccio portale. Vabbè, comunque ho l'intre, eh. Eh, l'ho fatto in uno mi supera. Questo posto ce lo portiamo a casa. Grazie BurloneFP, è stato un bel video. Ma ha vinto Nico. Ciao a tutti.